Perdelo via, ragazzi. Però ti piaccia un completino a righe. Perl, le tue mucche non possono farci niente con i soldi della taglia. Perché non li adoperi tu? Uh! La fattoria è salva! Dov'è Maggie? Non posso crederci se n'è andata. Mi mancherà tanto. Anche a me, Grace. Con i suoi modi e la sua testardaggine ha rischiato la vita per noi. E non siamo che degli estranei. È stato un privilegio conoscerla. Era una mucca come poche al mondo. Malgrado quelle sue raccapriccianti emissioni corporee. Ah, era squisito! Maggie! Facevo l'ultimo spuntino prima di partire. Quando ho sentito tutte le cose belle che dicevate su di me. Sapete, quasi quasi mi trattengo per un po'. Perché non resti per sempre? Beh, dipende da te, Calloway. La stalla è abbastanza grande per tutte e due. Solo se sarò io a portare il cappello. Ieha! Avanti, muovetevi ragazze! L'ultima che arriva dorme in piedi! Oh! Coraggio, un bel sorriso! E fu così che alla Medaslim, il più famigerato e temuto ladro di bestiame, venne catturato e smascherato da tre insolite mucche da latte. Andazione, Jeff! Qualcana lo spendi il tuo turno? E tu perché non esci dal mio barile, specie di mezzo coniglio buono solo per gli avvoltori? Quale stavolta le barile, stavolta le barile, stavolta la devo dire! Che meraviglia! Finalmente Jeff ha trovato un amico! Eccole, sono tornate! Ottimo lavoro! E la salve bellezze! Ehi, Barry! Tre regine? Due re? Abbiamo fatto fu! E qui c'è il jolly! Oh yeah! Vieni e poi, resta se vuoi, tutto è stupendo, il posto giusto, perfetto per noi. Se vieni a trovarmi, non andrò più via, ogni cosa è in perfetta armonia, non perdere tempo, qui tutto è magia. È il più dolce paradiso che ci sia!